Grande Fratello XV, diretta sospesa, bufera contro il reality di Barbara D'Urso Prime polemiche sul Grande Fratello XV di Barbara D'Urso, la protesta degli spettatori. Prime polemiche sul cancelletto Grande Fratello 2018 di Barbara D'Urso. . In queste ultime ore, infatti, in rete e sui social non si fa altro che parlare della clamorosa scelta degli autori e della produzione di quest'anno, i quali hanno deciso di interrompere la messa in onda della diretta in chiaro su Mediaset Extra nel cuore della notte. . Quest'anno, infatti, non è possibile seguire per davvero le avventure dei concorrenti della casa di Cinecittà 24 ore su 24 così come è accaduto in passato con le edizioni della versione VIP. Buffera al Grande Fratello 2018 per la diretta interrotta. . La diretta quotidiana del cancelletto Grande Fratello XV, infatti, viene assicurata tutti i giorni dalle 10 alle 2 di notte su Mediaset Extra e in streaming live sul sito ufficiale della trasmissione oppure dall'applicazione Mediaset Fan, la quale vi permette di seguire il reality show tutti i giorni in qualunque momento lo desiderate, direttamente dal tablet oppure dal vostro telefono cellulare. . . Tuttavia, però, la diretta in chiaro e streaming viene interrotta sul più bello, ossia alle 2 di notte e chi segue il GF 15 sa bene che certe dinamiche entrano nel vivo proprio nel cuore della notte, così come è capitato in passato. . 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